Sous-titrage Société Radio-Canada Quindi cambiate le prime posizioni, Gregorio Ciceri ha girato in 2.09, c'è un'altra migliore nel secondo ciclo, ha lasciato un 2.06, sbattatoci un secondo da Gregorio, c'era fatto Mattia Ioli che si è portato in seconda posizione, poi terza posizione per Vincenzo Alercia che ha davantiato, così come ha fatto Mattia Ioli, ma è con il 4.5 che scivola in quarta posizione. Poi c'è proprio Marchionni in quinta posizione davanti a Simone Mangia, Marco Barbatti, Carla Camponi, non stava, dicono 9 anni a 9 e si fa bene, del volo decimo. Ecco, eccolo Carlo Rigoletto, accompagnatelo fuori, non lo fanno di mettere sotto, vuole che sia tutto bene. Eccolo qui Carlo, sta bene, quindi sta uscendo da questa caduta che ha fatto chiudere appunto il sacco modellativo. Grazie a tutti.